Il contesto è uno dei più suggestivi del Gargano, una delle immagini da cartolina più significative della Puglia nel mondo. La bellezza e il fascino della Baia dei Faraglioni, tra mattinate e vieste, catturano lo sguardo per l'incredibile spettacolo naturale che regalano. In questo paradiso naturale, gli ospiti del Baia dei Faraglioni Resort hanno avuto l'opportunità di trascorrere una giornata per provare l'ebbrezza della pesca d'altura, apprendendo i segreti della preparazione del pesce con gli chef della rinomata struttura ricettiva. Un binomio che il nome dell'iniziativa Fishing and Cooking racchiude perfettamente. Abbiamo avuto già ospiti cinesi, russi, anche americani, svizzeri che appunto ci hanno chiesto di poter abbinare alla scuola di cucina anche una vacanza, un soggiorno e la conoscenza poi di quello che per loro è lo stile di vita italiano, che significa anche materie prime, qualità, territorio, gente, simpatia. Allegro Chef è la nuova scuola di cucina tradizionale italiana che insegna ad amatori e professionisti i segreti delle tradizioni e delle ricette tipiche delle diverse regioni. Sono organizzati appuntamenti tematici nelle strutture del gruppo Allegro Italia con l'organizzazione di corsi di cucina, degustazione e serate a tema. Allegro Chef è la scuola di cucina del gruppo alberghiero Allegro Italia Hotels, è nata proprio per condividere con i nostri ospiti l'esperienza del territorio con la capacità di saper cucinare in modo vero, autoctono, pugliese, ma anche noi abbiamo alberghi anche a Torino, a Milano, in Toscana, quindi il vero tipico italiano. Gli ospiti del Baia dei Faraglioni hanno appreso alcuni consigli per la preparazione dei piatti a base di pesce. Il loro pesce è formidabile, ha un vero e buon sapore, non cercano di sintetizzarlo con certi agenti chimici. Sicuramente il pesce è il cibo migliore e anche perché il pesce del nostro Mediterraneo è quello più profumato, ha un sapore particolare. Semplicità e valorizzazione dei prodotti locali, queste le regole fondamentali per preparare piatti di pesce seguendo le ricette della cucina pugliese. Questo è un piatto che prende le tradizioni della cultura del mangiare il pesce crudo, rivisitate un po' in chiave moderna con l'abbinamento di colori un po' insoliti, come quello della patata qui riprodotta appunto con una barbabietola rossa, che accompagna appunto questo carpaccio di branzino, dei gamberi rossi del nostro mare. Grazie!